Questo convegno va nel solco di un finanziamento del piano di sviluppo rurale fatto dalla Unione Europea, la quale ha assegnato a questo scopo 1 miliarde e 800 milioni di euro che devono essere impiegati ovviamente nell'agricoltura sia per quando riguarda l'adequamento tecnologico delle strutture operative sia per quando riguarda la possibilità occupazionale dei giovani che possono all'interno di questa struttura trovare il loro collocamento e quindi ha una importanza molto significativa perché apre uno spiraglio nuovo soprattutto nel terreno della valorizzazione dell'agricoltura che per le nostre zone è una vocazione naturale data la fertilità del terreno di tutta quanta la nostra area. Senza che ho riscontrato, ancora non inizio il convegno, la sala già conta di numerose presenze di amministratori anche della Valle Caudina, certamente fa capire l'interesse che ci sta in donna a questi finanziamenti europei. Certo che si sconda un ritardo, noi parliamo della programmazione 2014-2020 e siamo già nel 2016 ma al di là del ritardo che è certo ed è una situazione di fatto a cui purtroppo non si può fare nulla. L'importante è che si faccia una buona programmazione. Il PSR della Regione Campania che è stato presentato ed adottato dalla Commissione europea va in questa direzione, prevede delle misure contro la povertà, delle misure che riguardano le emissioni in atmosfera, la riduzione, insomma ci stanno diverse misure che usciranno tra il mese di marzo e il mese di aprile che possono dare delle risposte positive in termini di adesione dei vari comuni a dei progetti che avranno un impatto sicuramente positivo sulla comunità in questo momento di crisi. Però bisogna dire pure dall'altro che quest'anno, ad esempio, una volta pubblicati i bandi, per quando si faranno le gare, il ritardo che ci portiamo dietro farà in modo che i risultati operativi si avranno solo all'inizio dell'anno prossimo. Quindi quest'anno sarà un anno durissimo senza finanziamenti europei per tutti i comuni d'Italia. Non è che siamo in ritardo, siamo molto in ritardo ma perché si sono persi i 5 anni precedenti. Noi siamo andati in disimpegno per circa 2 miliardi di euro, il PSR aveva avuto circa 600 osservazioni. Noi in questi mesi non abbiamo perso tempo, siamo andati a Strasburgo, abbiamo ricontrattato con l'Europa il PSR e i fondi europei. Finalmente siamo in grado di partire, stasera è una campagna di ascolto perché illustreremo le linee, a fine marzo ci saranno i bandi, siamo andati di corsa sul ritardo che non è certo dovuto a noi. Però adesso abbiamo massicce risorse che possono essere volano di sviluppo per un'agricoltura di nicchie, di eccellenza, agroindustria, i giovani che vogliono investire nell'agricoltura e dobbiamo però lavorare ancora perché su queste linee ci sia un'attenzione un po' più forte alle aree interne perché il rischio è che possa concentrarsi la maggior parte delle risorse nelle aree costiere se noi non lavoriamo in maniera puntuale e questo è l'incontro di questa sera. Non è il primo, ne stiamo facendo, ne abbiamo fatti già 3 o 4, ne faremo altri negli altri territori della provincia per chiudere dopo la campagna di ascolto con gli staff tecnici e definire un percorso che valorizzi i nostri territori.